E l'Oscar va a Parasite. Il sudcoreano Parasite di Bong Joon-ho riscrive la storia degli Oscar. Per la prima volta vince la statuetta come miglior film, un lavoro in lingua non inglese. Il premio, consegnato da un applauditissimo a Jane Fonda, è andato a tutto il cast di questa commedia nera su povertà e lotta di classe, già vincitrice della palma d'oro a Cannes, che ha conquistato anche la statuetta come miglior film internazionale, miglior regia e miglior sceneggiatura. Migliori attori protagonisti come Da Previsione, Joaquin Phoenix per Joker e René Zellweger per la sua Judy Garland in Judy. Laura Dern e Brad Pitt premiati come migliori attori non protagonisti. Pitt ha dedicato il suo primo Oscar d'attore ai figli, mentre Phoenix, ricevendo il premio, ha voluto ricordare uno degli argomenti che più ha a cuore, l'ambiente. Sconfitto Martin Scorsese e il suo The Irishman. Tre Oscar, tutti in ambito tecnico, fotografie, effetti speciali e sonoro per 1917 di Sam Mendes, tra i favoriti alla vigilia. C'era una volta Hollywood di Tarantino, ha vinto anche per la scenografia. La statuetta per la miglior sceneggiatura non originale è andata invece a Jojo Rabbit del neozelandese Taika Waititi. Elton John ha vinto per la miglior canzone, I'm Gonna Love Me Again, da Rocketman, film sulla sua vita, e per i costumi è stato premiato Piccole Donne. Alla cerimonia Spike Lee si è presentato con uno smoking viola e giallo il ricordo dello scomparso Kobe Bryant, mentre la bella Natalie Portman ha indossato una cappa nera con i nomi di tutte le registe escluse, anche questa volta dall'Academy.